Io lo so che questa sera non siete qui per me, furbacchioni, e che di me non vi interessa assolutamente niente, anche un po' infami. Voi questa sera siete qui perché vi ho promesso un ospite d'eccezione, eccezzunale veramente. E effettivamente direi che ho mantenuto la promessa perché questa sera, ladies and gentlemen, nell'angolo rosso è qui con noi un po' di suspense, Sara Cardin! Sara, Sara, Sara! Aspetta un secondo, ecco qua! Avevi il microfono in muto ma ti ho attivato! Buonasera Sara! Ti ringrazio per la presentazione perché veramente da brivido quasi, mi sento un po' al bova quasi. Ciao a tutti quanti! Sei abituata di... Uh, picco! Siamo già in una ventina signori e signori. Buonasera a tutti! Vi ringrazio per essere qua non al nostro solito orario, però non ho voluto abusare della gentilezza e della disponibilità anche eccessiva di Sara, per cui lei era comoda così e abbiamo spostato la live. Tra l'altro la ringrazio duplicemente, triplicemente e quadruplicemente perché Sara oggi ha avuto una giornata mica male, dato che se non sbaglio, adesso magari mi correggimi, era a Roma oggi a ritirare un encomio dell'esercito e si è allenata e ha giusto mangiato un'insalatina perché ovviamente non può assolutamente sgarrarare. Io avevo mangiato una bella pastecca e le patate e avevo una fame tremenda. Oh, bravo, che soddisfazione! Brava! Così ci piace. e birretta? No birretta no no birretta no una botta de vita proprio e stasera è qui con noi a farci questo grandissimo regalo perché comunque sarà veramente impegnata anche perché siamo nell'anno olimpico 2021 non più 2020 perché lo sapete benissimo causa covid abbiamo si è dovuto spostare di un anno l'olimpiadi e vedremo un po' cosa succede? Sei pronta Sara per andare a Tokyo? Ovvio che sì perché mi sto allenando tutti i giorni proprio per questo quindi siamo prontissimi anzi eravamo decisamente pronti anche prima quindi non vediamo l'ora che riparta tutto e speriamo che vada tutto per il meglio soprattutto visto un po' la situazione difficile Com'è stato avere questa differenza? Insomma il periodo olimpico è dei quattro anni tu ti alleni in base a quei quattro anni la programmazione i test è tutto basato su quei quattro anni l'aggiustare il tiro e poi arriva il covid e ti fa solitare tutto di uno sia a livello di testa che a livello proprio di gestione degli allenamenti dello stress della fatica perché immagino che comunque arrivi alla fine dei quattro anni che sei anche tesa com'è stato? Ma sicuramente è molto strano forse ti dirò anche perché per noi è la prima volta che il karate è olimpico e che rientra nel programma olimpico appunto per Tokyo quindi sicuramente l'affrontare un percorso olimpico una programmazione olimpica era già strano di per sé perché non l'avevamo mai affrontato in tutto ciò ci si è messa appunto anche la pandemia quindi sicuramente molto strano perché non è che ci aspettavamo ecco che entrava il karate l'olimpiade e arrivava una pandemia mondiale questo non se lo aspettavamo guarda cosa siamo riusciti a fare ma è una cultura direi eh però ecco la cosa che dici te è assolutamente vera perché ovviamente con i programmi ci si tara sempre per obiettivi e ritrovarsi di punto in bianco con lo slittamento di tutte le gare praticamente di un anno perché l'ultima gara che abbiamo fatto era inizio 2020 e adesso ci ritroviamo adesso che ricominceremo probabilmente a gareggiare anche quella nazionale e non è stato facile no? anche pensare a come gestire un periodo così lungo senza gare e mantenersi in forma però al tempo stesso non perdere tempo e cercare magari di inserire elementi tecnici tattici nuovi che poi porti in gara ma un anno dopo quindi non li puoi neanche testare come scusa? non li puoi neanche testare perché comunque è un no non li puoi testare quindi sai dici starò procedendo per la linea giusta non hai le conferme no? quindi sicuramente ti devi affidare alle persone con le quali lavori al tuo staff al team che ti segue e cercare di dare il giusto spazio a ciascun lavoro senza sovraccaricare troppo però neanche senza perdere la forma fisica che poi è necessaria e poi diventa difficile da recuperare nel momento in cui si riparte quindi il giusto equilibrio ecco intanto salutiamo un secondo Cinzia che ti saluta buonasera Sara Daniele Arianna Arianna ormai è un'affissionata e il mio amico fumettacci Vincenzo e tra l'altro ne approfittiamo un attimino perché vi devo confessare che Sara è in ottima forma perché la scorsa settimana se non sbaglio giusto correggimi se sbaglio ha vinto un evento a Orle hanno fatto una roba lotta erano in cinque in un palazzetto dello sport a porte chiuse in sei in un palazzetto dello sport erano in sei a porte chiuse nessuno le ha viste praticamente ha vinto chi è uscita sulle sue gambe è andata così allora guarda non è stato molto così però ti dirò ci siamo veramente organizzate da ranking le migliori del ranking insomma della 55 kg tra di noi c'era la campionessa del mondo in carica la polacca Dorota poi c'era Jennifer Warling che è campionessa europea c'era la Yvette Goranova dalla Bulgaria che è il bronzo mondiali c'era anche l'italiana e quindi veramente sei però sei cattivissime una peggio dell'altra e sì è un po' porte chiuse tin tun tin tun e alla fine però è stato è stato bello perché eravamo si vedeva proprio nel viso di tutti quanti la felicità di ritornare sul tatami di sentire l'adrenalina da gara mancava a tutte ed è stata una bellissima esperienza poi poi noi comunque la cosa che spesso magari può sorprendere ma io la vivo magari quotidianamente ho questa fortuna si pensa sempre che ci sia una chissà che grande rivalità no? in realtà una volta che siamo sul tatami morte tua vita mia ma quando è finita la gara e poi ci fermiamo a fare il training camp o passiamo del tempo insieme cioè è come fosse un'italiana un'altra campionessa perché c'è talmente tanto rispetto del lavoro che ognuno fa che poi anche i momenti così più frivoli si passano molto bene beh credo che si crei anche una sorta di intimità nel senso che comunque a me è sempre piaciuto dire che non non entri mai così tanto in contatto così tanto in intimità non conosci mai così tanto bene una persona come quella con cui combatti e quindi immagino che tra l'altro voi vive insomma siate più o meno non dello stesso giro però che vi capiti spesso di scontrarvi sul tatami e per cui immagino che si crei anche una sorta di paradossalmente di affiatamento cioè la rivalità ma non l'inimicizia sì assolutamente cioè noi siamo avversarie non siamo nemiche cioè siamo avversarie quindi più è forte il mio avversario più è da stimolo per me a cercare di batterlo ma non cioè è una diciamo un'aggressività agonistica non è una cattiveria una nei confronti degli altri anzi cioè assolutamente no ragazzi la chat è aperta quindi se per caso volete fare qualche domanda scrivete e vediamo un attimino di accontentarvi ok e com'è stato allenarsi e vivere la vita ad agonista in questo periodo di covid immagino tamponi controlli insomma forse anche un aumento dello stress rispetto a già quello a cui ti sottoponi quotidianamente beh il primo periodo ha come la maggior parte delle persone anche noi ce lo confermo eravamo chiusi in casa io avevo spostato di là tutto il divano tutto avevo messo il tatami in salotto e quella era diventata la mia palestra quindi stavo spesso anche in videochiamata con i miei allenatori coach di nazionale ci sono stati giorni sono passata dal salotto di casa al garage giù poi uscivo a correre per quello che si poteva insomma correre all'inizio poi piano piano fortunatamente hanno dato il via almeno agli atleti professionisti di ritornare ad allenarsi perché ovviamente ci dicono abbiamo un'olimpiade avete un'olimpiade ci devono dare anche la possibilità di prepararla non è che ci tirano fuori dall'armadio e ci portano a fare l'olimpiade ci dobbiamo allenare è il nostro lavoro quindi siamo ritornati in palestra e quella è già stata una bella emozione perché passare da davanti al divano alla palestra fa io penso che la cosa fondamentale sia non buttarsi mai giù d'animo quindi cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e di cercare di fare il massimo con i mezzi che si ha a disposizione a volte abbiamo tutto a volte abbiamo poco ma non è vero che non abbiamo niente c'è sempre qualcosa che si può fare anche nella difficoltà e soprattutto potete allenarvi anche da casa brutti infami è inutile che vi trovate le scuse se ce la fa Sara Cardin ce la fate anche voi giusto dopo la gente magari si mette lì col budino le cioccolate calde i biscotti poi diciamo anche quello insomma secondo me il giusto equilibrio ecco noi non la dobbiamo preparare quindi possiamo sgarrare di più però insomma dovete trovare in quarantena tutti siamo diventati tutti i mastri fornai prima di tutto in primis no beh io lo confermo io ho sempre negata in cucina unico periodo ho cominciato a fare tipo la pasta fatta in casa poi ho fatto la pizza ho detto cioè mi sono quasi meravigliata di me stessa quindi c'è speranza per tutte dai se sto parlando a cucinare io vuol dire che c'è speranza per tutte ti fanno i complimenti per le catane che hai alle tue spalle vi ringrazio è un regalo originali? giappone? non lo so sono un regalo sono giapponesissimo sono originali Sara Cardin quindi marchio registrato e valgono di più domanda se puoi se hai un'idea in merito oppure no 2024 Parigi ce lo siamo già persi bravo perché? ce lo siamo già persi nel senso che non abbiamo neanche ancora fatto il debutto nel 2020 e già ci hanno tolto dal programma 2024 ce neanche hanno fatto in tempo a vedere che già che già l'hanno tolto non te lo so dire se se per caso potrebbero rinserirlo non potrebbero rinserirlo la vedo la vedo molto dura sono sincera per il giro fu così per il giro fu così andò a Tokyo l'anno successivo non ci fu e poi venne reinserito speriamo è la speranza di tutti penso sia la speranza di tutti perché è veramente un peccato anche perché penso che sia uno sport veramente al di là di molto praticato estremamente spettacolare che ha tanti valori e anche mediatico io quando l'ho commentato che ero stata in Sky a commentarlo il direttore dopo la prima giornata ci aveva duplicato gli orari di trasmissione delle varie gare appunto perché lo share degli ascolto era molto alto quindi anche televendibile come sport è perché è bello da vedere comunque a livello di Kumite ormai avete raggiunto dei livelli che sono altissimi mantenendo una pulizia tecnica spettacolare è bello l'unico peccato secondo me non so tu come come la pensi guardo è che correggimi se sbaglio che non abbiano inserito il katà a squadre alle olimpiadi quello secondo me è stato un po' sono d'accordissimo con te sono d'accordissimo perché lì proprio babam cioè la gente che lanciava le cose sul tatami non lo so bravo no sono d'accordo soprattutto perché mi rendo conto che la maggior parte dei neofiti o comunque anche per esempio mia mamma che mia mamma ha di karate proprio zero cioè non è mastica zero nonostante anni e anni che io faccio karate quando guardano il karate la cosa che più colpisce è il katà squadre il bunkai il bunkai è una cosa che fa innamorare tutti perché vedono questa cosa forse non so televisiva spettacolare è una cosa che piace molto quello sicuramente è un peccato speriamo che il karate ritorni a essere olimpico anche dopo Tokyo e che magari possano estenderla anche al katà squadre tra l'altro giusto per fare un attimino per chiarirci un po' le idee com'è che allora se non sbaglio c'è un rappresentante per sesso di katà singolo quindi niente squadre mentre per il comité allora non c'è comité a squadre anche quello giusto è soltanto individuale invece una persona per categoria di peso allora le categorie di peso sono ridotte anziché essere per esempio nel femminile cinque categorie 50 55 61 68 e più 68 sono soltanto tre e sono 55 61 e più ok nella 55 rientrano rientrano anche le 50 quindi nella mia categoria già prendi due categorie e le unisci e quindi è una bella è una bella c'è pochi posti categorie riunite quindi sì siamo entrati ma siamo entrati ancora a ranghi ridotti quindi siamo parte del programma olimpico però magari rispetto ad altri sport non abbiamo 60 70 persone per categoria ne abbiamo 10 che sono che sono poche insomma quindi speriamo che anche si speriamo che anche questo poi ovviamente se il karate dovesse rientrare nei prossimi programmi olimpici che ovviamente venga esteso perché perché 10 è veramente folle la composizione della nazionale ero lì che dicevo ma no il cuore a pezzi per il katà e a squadre che ovviamente io sono rimasto in un angolino raccolto a piangere confessalo confessalo cosa? piacevi katà a squadre io facevo katà quel pochino che ho fatto e il mio maestro di Torino il maestro strumiello è ancora specializzato nei katà lavorava molto col katà però io per il katà ho proprio una passione viscerale io in katà non ce l'ho mai fatta nel senso che io da piccolina hanno provato a farmi fare un pelino di katà ma non ce la facevo perché non riuscivo a stare ferma era iterativa dovevo combattere non riuscivo no era una cosa per me tremendamente noiosa guardare gli altri mi piace tantissimo mi piace molto il katà e tutto però penso che poi alla fine ci sia un'inclinazione personale sono due cose comunque che si integrano però sono anche molto diverse quindi poi quando arrivi all'alto livello è ovvio che ti devi specializzare su uno e sull'altro e in quello secondo me dipende molto anche dall'inclinazione personale di come uno è caratterialmente sì a me la parte del katà personalmente piace proprio tutto lo studio il bunkai il andare a vedere tutte le parti sì sì tutta la parte anche io poi mi intrippo nel cercare di capire come è nato da dove è sbucato tutte queste cose queste cose qua e condivido ma infatti avrei voluto chiedertelo che ad oggi comunque il vostro livello è così alto che siete iper specializzati quindi tu ad oggi pratichi solo kumite così come immagino anche gli altri sì anche gli altri anche i ragazzi di katà praticano solo katà no è difficile ma anche perché la preparazione agonistica è proprio leggermente diversa il modello prestativo fra katà e kumite è diverso quindi il tipo di preparazione sì assolutamente sì penso che sia importante un po' mi dispiace anche forse nella mia parte di formazione di non aver avuto delle basi solide insomma di katà però però poi quando si arriva a un certo livello sì è possibile avrai sempre tempo a recuperare sì 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 un giorno mi metterò a studiare a mettermi a studiare delle arti marziali non lo so mi piacerebbe farmi un viaggio all'interno della storia delle varie culture se per caso volessi sappi che il lunedì sera dalle 19 c'è karatepedia e tra le altre cose la prossima settimana ci sarà Alberto laureato in lingue orientali con lui andremo ad analizzare gli ideogrammi non vi dico ancora la prossima settimana forse facciamo oss stiamo prendendo una parola di settimana in settimana ci fa dei pistolotti su come è nata qual è proprio il significato e via ovviamente è una bella idea grazie grazie intanto approfitto un secondo e saluto gli seduta stuntman che hanno un canale su Twitch sono passati a salutarti tra l'altro saranno live fra un pochino anche loro fra un'oretta e Sandri chiede proprio quello che avrei voluto chiederti io quindi come hai iniziato a praticare avevi la palestra vicino a casa ne eri sempre affascinata venivi bullizzata come me cosa ridi è stata una cosa terribile all'elementare ma davvero all'elementare addirittura io ho iniziato sembra sembra la brutta copia la versione mandroni alessandrina di Karate Kid però io ho iniziato a praticare karate perché avevo tre ragazzini in prima elementare che mi rompevano le balle tutti i giorni e io che immagino che poi dopo sia finita ho continuato a prendermele soprattutto i primi mesi perché come ben sai con il gedan barai però comunque mi ha dato quel minimo di sicurezza per dire no per reagire e gli ha fatto tanto perché veramente penso che il bullismo il cyberbullismo anche purtroppo siano una grossa piaga sociale in questo momento comunque non è la mia storia la mia storia è di una bambina forse maschiaccio più che bambina femminile di un maschiaccio che aveva 6-7 anni e giocava tutto il giorno con gli archi le spade le frecce intagliavo con il taglierino la legna perché mi sentivo una piccola guerriera e correvo nel giardino insieme con il pastore tedesco mi rampicavo sugli alberi lanciavo le frecce di tutto e di più e una mamma un'infanzia sana un'infanzia sana un'infanzia sana e una mamma che era così orgogliosa di avere una bambina che mi vestiva da principessa carnevale mi metteva i fiocchetti rosa in testa mi ha iscritto a ginnastica artistica e ha messo il tutu rosa sì che un po' alla volta probabilmente si è resa questa idea e sul consiglio forse un po' anche del nonno che era diciamo un po' quello sportivo di famiglia quello con il quale da piccolina passava un sacco di tempo abbiamo deciso di fare qualcosa di più strong io a quel tempo guardavo come tutti i bambini i film magari di karate kid Bruce Lee quindi ero appassionata a questa parte qui e ho iniziato in una palestra vicino a casa a dieci minuti da casa e niente mi sono innamorata subito e poi quello è rimasto tutta la vita Cobra Kai l'hai visto? Cobra Kai no però mi hanno detto che è molto freddo sono sincera perché quando io ho il problema non so voi con le serie Netflix creano una sorta di dipendenza cioè se la serie mi piglia inizio la prima e poi tutte le sere ho questa cosa che devo vedere la seconda puntata la terza puntata quindi quando lo inizio so che voglio finirmelo tutto quanto e quindi voglio farmelo per bene però mi hanno detto che è un sacco bello guarda la prima stagione è proprio proprio bella secondo me dopo perde perde un po' ma la prima stagione la prima stagione perché perde dopo? perché? perché ovvio vi ricordo che se volete ci sono le mie recensioni con copertine molto stupide tra l'altro perché nella prima serie hanno fatto hanno avuto il colpo di genio di invertire il punto di vista quindi tu vedi la storia dagli occhi di Johnny Lawrence del cattivo di Karate Kid e l'ha sento molto bello tra l'altro ha proprio cercato di far vedere come lui cerca di redimersi di crescere di dare qualcosa ai ragazzi aprendo il dojo di capire che comunque gli insegnamenti del suo insegnante non solo non hanno mai avuto un vero valore ma sono sbagliati eccetera dopo un po' però è diventato a parte che ci sono risse ogni tre per due cioè tipo quella è la mia merendina rissa a scuola robe fantascientifiche c'è anche della capoera di mezzo la qualunque però ha avuto di positivo se vogliamo dire così che tanta gente si sta riavvicinando a questa disciplina io ho parlato no ma è così è così perché se poi ricordi anche il periodo di Kung Fu Panda c'era il periodo di Kung Fu Panda mi arrivavano i bambini in palestra soprattutto quelli bello è stato bellissimo perché magari mi arrivavano in palestra i bambini quelli un po' più cicciottelli che guardando Kung Fu Panda erano tutti belli convinti voglio fare karatè voglio fare karatè quindi no è vero sicuramente cartoni film portano e guidano un po' anche la gente e le passioni abbattiamo queste idee di genere dicono bravo assolutamente tra l'altro ragazzi io ve l'ho già detto a voi l'ho già detto quando abbiamo fatto la live assieme ma lo ripeto a chi ci segue non pensiate che le fanciulle sul tatami siano tutte carine e gentili anzi magari qualche volta hanno un po' di difficoltà in più a partire ma una volta che capiscono che ci possono dare sono difficili da gestire e sono insomma danno delle soddisfazioni ecco diciamo diciamo così domanda tu hai iniziato dunque tu hai la mia età non vi dico quanti anni ha fatevi cavolacci vos voi sapete quanti anni ho io o siate e e hai iniziato quindi con non so se hai iniziato con lo shobui pon o hai iniziato subito con il sanbon quindi col kumite a uno a tre punti però il kumite in questi anni è cambiato tantissimo tantissimo una volta c'erano i paranocche i paradenti per il resto si erano uomini veri e non importava cosa succedeva adesso abbiamo guantini e paratibie colorati c'è il rosso e il blu ci sono una volta c'era soltanto il mezzo punto il punto intero invece adesso ci sono se non sbaglio fino a tre punti correggimi se sbaglio e cosa mi sei dimenticato una cosa fondamentale una cosa fondamentale che io ricordo da ragazzina non c'era il tatami cioè quando ero bambina noi facevamo le gare senza tatami di kumite quindi mi ricordo delle grandi bolle sotto i piedi tagli è vero anche perché spesso le palestre erano in in sì come cavolo in l'olium esatto sì mamma mia spesso andavi tipo nel campo da basket in inolium che poi ti facevano quei bei piedi neri terrestri esattamente quando facevi gli okuzuki chudan ti si accartocciava il ditone sotto il piede e vedevi le madonne poi la stessa cosa sempre parlando di piccole dimenticanze erano i piedini non avevamo mi ricordo che le prime gare le facevamo tutte quante senza le protezioni al collo del piede e ogni volta che tiravo un bel mavashigeri chudan e piccavo un gomito anche se ho tante madonne entra sempre in questa parte qua del collo del piede dove ci sono le terminazioni nervose proprio sentite le stelle e le scintille e anche quello era estremamente simpatica come cosa ovviamente il controllo era completamente diverso mi ricordo le prime gare che facevamo in Croazia o che andavo all'estero c'era un controllo che aveva il contatto diciamo che era molto più più forte rispetto adesso ovviamente forse per certi versi c'era un karate più duro più maschio però nel corso del tempo penso sia diventato sempre più spettacolare e al tempo stesso anche sempre più veloce perché adesso le velocità che abbiamo nelle competizioni sono sicuramente elevatissime e è diventato è diventato qualcosa anche di talvolta per gli arbitri impercettibili quindi si è inserito la video review c'è questa necessità perché adesso i colpi viaggiano a decimi di secondo prima si usavano tantissimo i pugni c'erano poche gambe poche use di calci poi nel tempo si sono inseriti i calci prima c'erano all'inizio le proiezioni a due mani poi adesso nell'ultimo periodo in gara ci hanno tolto la possibilità di farle a due mani ma soltanto una mano anche la terminologia come dici te è cambiata avevamo il Vasari e adesso invece c'è di PON quindi tre punti tante tante cose ecco penso che sia stato bello anche vivere tutto tutto questo detto così se vuol dire essere un dinosauro tipo sembra che ci ha centrato però è nell'arco di questi anni è cambiato velocemente è cambiato molto come ho iniziato a sette anni giusto allora giusto che ormai tra cent'anni ho iniziato a sette anni abbiamo la stessa età ce ne ho trentatré come Cristo c'è trentatré e sono ancora strong anche se ne ho trentatré no no ma prima di tutto nel senso assolutamente è chapeau per quello anche perché diciamo la verità e non vuole essere cioè vuole essere un complimento e non vuole essere denigratorio però tenere il livello che tiene Sara comunque dove immagino che ti interfacci anche con ragazze parecchio più giovani ah beh l'ultima gara che abbiamo fatto qui a Carle che appunto eravamo in sei tutte campionesse di livello internazionale tutto sì avevo ragazze che avevano dieci anni meno di me quindi un paio di ciuffoli insomma riuscire a dargli ancora una bella randellata è motivo di soddisfazione no no è assolutamente è assolutamente lodevole solo che nell'arco di questi venti cosa sono ventisei venticinque ventisei ventisei anni circa comunque il karate è cambiato come penso non sia mai cambiato negli anni da cui è arrivato in Giappone da Okinawa ha fatto veramente un salto che poi possa piacere o meno però ha fatto veramente un salto a pie pari grandissimo e stargli stargli dietro anche alle volte non è non è stato molto semplice e tu personalmente preferisci la versione più più dura più agé o ti trovi meglio con la versione o meglio più che magari trovarti meglio più nelle tue corde ti diverte di più questa versione un po' più spettacolare più rapida guarda sinceramente non te lo so dire a me piace combattere quando entro lì mi si spegne la luce e io devo combattere devo vincere possono mettermi il regolamento che gli pare e penso che il mio compito sia quello di adattarsi a quel tipo di regolamento se mi dicono che devo tirare forte e duro tiro forte e duro se devo tirare invece più di astuzia più più in movimento penso a tirare più in movimento e in realtà penso che poi anche quando si parla di alto livello si parli un po' anche di questo della capacità negli anni nel tempo di un atleta di sapersi adattare perché ti studiano perché i regolamenti cambiano perché per mille cose e la cosa più importante sia adattarsi non ho una preferenza delle due cose mi piace tutto quello che è karate tutto quello che è arti marziali mi affascina e mi piace se devo avere una considerazione penso che il karate come inteso oggi come oggi sia quello più propenso ad essere sport olimpico semplicemente per il fatto che se non si vede la gente che è stramazza terra sangue da tutte le parti e tutto è più televendibile all'interno di un'olimpiade a meno che non si facciano appunto delle gare a parte però ecco nello spirito olimpico mi vedo di più un karate dove c'è molta più protezione poi per gli atleti e per la loro salute è anche molto più piacevole da vedere perché diciamoci la verità il vecchio Shubui Pon magari stavi lì a vedere due che si guardavano brutto per un tot di secondi finché non erano lì che allora no parte no parte lui parte poi chiudevano magari con uno zucchi e tu eri lì e tu eri lì e tu eri lì è finito tutta sta roba per tirargli un pugno quindi di sicuro di sicuro quell'aspetto lì è assolutamente più è anche più godibile da casa e forse fa anche una pubblicità più più piacevole alla disciplina voi dovete sapere correggimi se sbaglio che io e Sara oltre all'età oltre a essere come potete vedere bellissimi tutti e due soprattutto e abbiamo un'altra cosa in comune cioè scriviamo entrambi a mano ancora perché io ho spulciato da buono stalker quale che sono sul tuo profilo ho visto che tu si scrivi ancora a mano come me e Sara ha pubblicato non uno ma due libri perché ha pubblicato Combatti quest'anno e poi di cui parliamo assolutamente e poi però Sara ha pubblicato insieme ad altre persone un libro che si chiama Lotto tutti i giorni sì certo ah questo non te l'aspettavi eh questo non me l'aspettavo sì sì il buono genio ai suoi assi nelle maniche che è un che di sicuro io adesso ordinerò che non ho non sapevo che esistesse sono andato oggi a informarmi è un libro coraggimi se sbaglio dedicato prevalentemente ai bambini e alle e alle bambine un libro con illustrazioni e altro dedicato al tema della della violenza del capire la violenza immagino anche della prevenzione e come chi ci segue sa è un tema che a me sta particolarmente a cuore perché io organizzo seminari gratuiti sulla prevenzione della violenza sulla violenza non sulla violenza delle donne cioè su come fare violenza alle donne su come evitare che questo avvenga e ho sempre detto che sarebbe da iniziare nelle scuole soprattutto elementari a fare questo tipo di lavoro la cultura della prevenzione e a parlare di questi argomenti qua e io ho scoperto questa cosa qui dimmi cos'è questo libro ti prego sì allora faccio una premessa che io appoggio anche un'associazione che è Fare per Bene Onlus che è contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di discriminazione di genere quindi sono sempre stata molto attiva da questo punto di vista sia nei confronti delle donne ma anche appunto delle violenze insomma su bambini o comunque discriminazione in generale abbiamo fatto questo libricino che in realtà non è assolutamente pesante perché è sottilissimo è fatto sotto forma di fumetto c'ha mille disegni mille cose e parlavamo un po' ai ragazzi di valori del valore dello sport di che cosa sia il rispetto l'importanza della donna e delle sue diversità del fatto che la donna ha sicuramente delle qualità diverse anche dall'uomo che nella diversità non c'è il peggio o il meglio ognuno nella diversità deve ricercare poi quella che è la sua eccellenza quindi cercavamo di comunicare ai ragazzi e questa è una cosa che ci ho sempre tenuto e partecipo sempre per quello che posso tra un allenamento e l'altro ed è stato bello insomma a scrivere insieme a questa giornalista Gaia e è uscito un bel fumetto dai dai lo trovate su Amazon a 10 euro se non mi ricordo male e io domani lo compro per i bimbi è molto carino secondo me avete fatto davvero una adesso non è per lodarti a gratis però avete fatto davvero secondo me una cosa molto bella è difficile parlare ai bambini di questi argomenti alle volte è difficile trovare le situazioni in cui riuscire a parlare alle volte si trova chiusura da parte magari dei genitori piuttosto che delle scuole perché sono un po' dei tabù e secondo me avete fatto veramente una cosa lodevole e anzi è un peccato mi permetto di dire questo che io cioè che io abbia dovuto fare una ricerca per scoprire di questa cosa qua oddio magari immagino che il libro quando è che è uscito? il libro mio è uscito nel 2018 l'8 marzo invece è uscito penso anche 3-4 anni fa insomma non è facilissimo da trovare se volete cercare dovete cercare i libri Sara Cardini allora sbuca però anche io spesso cerco su Amazon magari libri inerenti a violenza all'analisi della mentalità dell'aggressore piuttosto che strategie di prevenzione dialogo escalation o altro e quando cerchi questi temi c'è molto poco in italiano e approcciarlo ai bambini è veramente difficile per cui è difficile perché sono tematiche molto difficili di qui parlare non si vuole comunque turbare un bambino che va a leggere delle cose che sono brutte che sono infelici però al tempo stesso è importante parlargliene perché devono conoscere quelli che sono i pericoli cos'è il male e parlarne penso che sia importante non dovrebbe assolutamente essere un tabù io credo non so come sia la tua di esperienza però per l'esperienza che ho avuto con i bambini che fa tanto come gli si parla delle cose e come gliele si approccia e allora a quel punto forse se hai la giusta sensibilità il giusto modo di approcciarti puoi parlare quasi di tutto anche perché fessi non sono di sicuro anzi no no guarda questa cosa qui che tu dici l'ho riscontrata molto poi nel secondo libro combatto e ho scelto di vincere perché no quella è fondamentalmente in quel libro ho raccontato tutta la storia della mia vita però nel momento della stesura perché abbiamo scritto veramente a quattro mani io con l'aiuto di una giornalista che mi ha dato una mano perché non avevo idea da dove partire e dove finire come dividere i capitoli però ci sono pezzi e capitoli interamente scritti a mano proprio da me e quello che volevo fare non era cercare magari un linguaggio forbito io non sono una mega scrittrice sono un'atleta e volevo raccontare una storia che fosse anche vicina alle persone che fosse forse quasi un diario dove raccontavo le mie confidenze le mie storie e che anche un bambino magari leggendo quella storia potesse magari in certi tratti riconoscersi e magari darsi forza e dire vabbè però se anche lei ha attraversato dei momenti difficili nella propria vita e poi ce l'ha fatta magari ce la posso fare anch'io però questo non deve essere raccontato in un modo pesante perché altrimenti diventa forse soltanto una cosa per adulti e magari non può aiutare penso che la tua scelta sia stata intelligente perché di sicuro traspare di più Sara e quindi probabilmente chi ti legge viene più a contatto con te di questo non ho nessun dubbio sul fatto che traspai a Sara perché avevo tipo io ho sempre scritto quando ero piccola che andavo dallo psicologo sai che lo psicologo ti fa o disegnare all'inizio oppure ti fa scrivere come modo forse per liberarti anche dai pesi che tutti abbiamo dalle difficoltà e quindi ho sempre scritto 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 e un po' alla volta un giorno mi sono girata due anni fa e guardavo il comodino e c'avevo una pila così di diari senti Sara che dici magari li mettiamo assieme e facciamo un libro ormai quindi ci sono in realtà delle pagine che un po' modificate su alcuni temi insomma però sono prese proprio da quei diari quindi sicuramente sono è anche giusto così quindi praticamente questo libro stai dicendo è un non è stato non l'hai scritto da zero cioè non ti sei svegliato un giorno e hai detto mi piacerebbe scrivere un libro e via hai preso del materiale che era era tuo personale intimo e hai deciso di condividerlo con le altre persone sì io fondamentalmente nei diari scrivevo i momenti forse salienti della mia vita quindi i momenti di grosse emozioni cose poi ti devo dire una cosa che c'è un diario adesso questa è una cosa che ho detto poche volte ho un diario dove negli altri scrivo tutte quante queste cose come mi sento in alcune gare post gare poi li ho messi insieme li ho messi in combattio ho scelto di vincere e poi c'è un altro diario che da quando sono piccolina che scrivo poesie ma non ti metterà a ridere no perché ma sicuramente faranno schifo però non le ha lette mai nessuno hai capito quindi sono chiuse dentro in questo libro e ogni tanto intanto le scrivo però quelle non verranno mai pubblicate sono mie e sono probabilmente tremende però ecco il libro è sicuramente molto molto personale poi se avrei modo anche insomma di leggerlo te ne renderai conto cioè mi sono veramente messa a nudo senza filtri e ho raccontato tutto senza inibizioni quindi le cose belle ma anche le cose brutte perché poi magari spesso sei un una ragazzina dice domani mattina voglio essere Sara Cardin non voglio essere Sara Cardin sì però anche Sara Cardin ha avuto i suoi momenti di difficoltà perché siamo prima di tutto persone anziché essere insomma solo atleti quindi è giusto raccontare tutta una storia al completo beh intanto ti ringrazio per aver condiviso con noi questa cosa del libro di poesie del diario di poesie e poi scusa io non sulla cosa che siano brutte non ci credo l'importante è che che siano state fatte per farti star bene che importanza che importanza poi se vengono se vengono dal cuore e sono state qualcosa che ti sei scrivendo come Funakoshi scrivi le poesie non saranno sicuramente a livello di Funakoshi chi lo dice magari ma mai dire mai insomma però beh molto bella molto bella questa cosa e no davvero è stato è stato un piacere saperlo e mi sono perso un pezzo mi sono perso per strada il l'idea di pubblicare comunque il libro e di far vedere anche il rovescio della medaglia secondo me è una scelta vincente perché ma non c'è bisogno che te lo dica io perché comunque molti vedono soltanto i successi e non si rendono conto di tutto quello che c'è dietro non si rendono conto della fatica magari che hai fatto a rialzarti di quanto hai imparato da una sconfitta di dei momenti difficili complicati che magari hai dovuto affrontare per perseverare e arrivare là è facile dire voglio diventare come quella persona lì ma non riconoscere e onorare anche la strada e la fatica che ha fatto per arrivare lì perché quello che vale nella vita non si ottiene mai mai gratis e oggi con i social con questa cultura sempre un po' più fast food dell'aver tutto subito quasi subito spesso questa parte si perde per strada e penso che sia molto veramente molto molto bello che tu che tu ti sia sentita di fare una cosa una cosa di questo genere e chapeau guarda sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che ci sia proprio probabilmente anche nell'ultimo nell'ultimo periodo proprio una cultura del usa e getta anche per quanto riguarda i valori l'immagine e penso che forse nei libri le persone riescano ancora a raccontare quella che è la verità quella che quello che è tu in un libro scrivi parole non metti un'immagine non è che fai un sorrisino sbrillucci gli occhi e la gente compra il libro tu racconti una storia e nel momento nel quale racconti una storia mi piace che sia estremamente vera estremamente anche forse cruda in certi tratti ma che dia la possibilità magari a dei ragazzini di identificarsi in una persona in un momento in qualsiasi cosa che però sia genuino pieno di contenuto che non sia qualcosa di vuoto e buttato lì e venduto sui social per 24 ore che poi sparisce perché spesso poi magari i ragazzi ecco si identificano su modelli magari talvolta io credo anche magari sbagliati e in questo invece lo sport aiuta perché rimane una delle poche cose dove alla fine la meritocrazia è quella che ti porta avanti ci tieni molto ai pigiorni vero? sì ci tengo molto ci tengo molto perché ho questo ricordo di me da piccolina quando vedevo i campioni che volevi l'autografo volevi fare la fotografia e quello era li vedevi così come non lo so delle stelle e mi piace mi piace poter restituire tutto quello che magari è stato dato a me quando ero piccola è molto bella come cosa tra l'altro mi tocca particolarmente perché insomma chi mi segue da un po' lo sa perché meno sempre torrone con sta cosa però credo che approcciarci ai giovani sia un po' la nostra occasione per migliorare il mondo di domani e quindi sapere che una persona comunque impegnata come te che sempre di corsa di fretta perché a ore quanti ore di allenamento hai alla settimana le mattine pomeriggio quasi tutti i giorni avrai una media di sei o otto ore al giorno sì anche meno anche meno fai quanto quattro cinque ore al giorno insomma di fatto però comunque il livello di intensità è alto cioè noi comunque dobbiamo lavorare su rapidità resistenza alla rapidità quindi assicuro che quando facciamo un'oretta e mezza due a quelle velocità alla fine alla fine anche c'è un pollo no è veramente è veramente bello e ti leggo giusto due domande se hai ancora tre minuti da darci e poi non abuso più della tua disponibilità perché se no veramente me ne approfitto allora come hai iniziato te l'abbiamo chiesto Cobra Kai Karate giusto per rimanere in tema chiede se secondo te in quanto agonista professionista il karate può essere una una valida disciplina per quanto riguarda il discorso della dell'autodifesa ma allora posso confermare che sì nel senso che io sono anche un militare sono primo caporal maggiore dell'esercito e quello che studiano i nostri militari anche all'interno della Folgore l'ho visto con i miei occhi ho anche praticato qualcosina proprio poco però mi ci sono avvicinata è l'MCM che è il metodo di combattimento militare ed è stato costruito su delle basi di karate poi integrate con anche altre arti marziali ovviamente però la base sicuramente è stata presa dal karate quindi sicuramente sì ovvio che poi c'è un adattamento da quello che è il karate sportivo a quello che è il karate usato come autodifesa anche perché cambiano le dinamiche cambia già soltanto le regole di ingaggio di un militare rispetto magari a quello che si trova a dover affrontare una persona in strada e via dicendo e poi Vincenzo ti chiede se approfitterai di Tokyo per dare un occhio al Giappone magari ci sei già che stata tu sì sono stata in Giappone già tre volte una volta mi hanno invitato i giapponesi ed è stato bellissimo perché loro con le braccia con i pugni sono fortissimi però sono un po' affascinati dai nostri calci all'italiana e mi hanno invitato lì a fare questo stage volevano imparare queste tecniche di gamba quindi dei giapponesi che ci chiedevano di imparare delle tecniche di gamba per noi era veramente un motivo di grande un onore ci sono state diverse volte in Giappone anche quella nazionale a Gotemba vicino al monte Fuji tra l'altro che vedevamo ogni mattina quindi sono molto molto affascinata dal Giappone e mi piacerebbe in un post carriera agonistica gustarmelo tranquillamente in una vacanza e girarmelo tutto quanto deve essere una terra affascinante io ho in testa ma io lo dico un giorno riuscirò a farlo di fare la Tokaido non so se hai presente qual è come il nome del famoso Ghi che è la strada che porta da Tokyo a Kyoto di farla a piedi zaino in spalla wow adorare io sto qui Kyoto ce l'ho proprio qui vorrei vedermela mi hanno detto tutti quanti che è eccezionale ho visto Okinawa ho visto Tokyo però Kyoto non sono riuscita a vederla anche io ho un'amica che tra l'altro dovremmo riuscire ad ascoltare questa settimana una mia ex allieva che vive adesso a Tokyo e lei è andata a Tokyo e c'è stata c'è stata un po' e diceva che è proprio il Giappone che ti immagini quello che probabilmente è un po' un po' nel cuore di tutti noi che ci affascina tantissimo ragazzi io direi che a Sara abbiamo rotto abbastanza le scatole ciao siete stati troppo carini anche te Eugenio è stata una bella io vorrei ringraziarti veramente di cuore perché comunque adesso io non so voi ragazzi quanto la la seguiate o altro io ho conosciuto Sara perché sono un fanatico della preparazione atletica sportiva e quindi sbirciavo i vari i vari allenamenti che pubblicava su facebook e poi ho visto che insomma è molto impegnata sia da un punto di vista social che da un punto di vista mediatico perché magari l'avete già vista qualche volta alla RAI e in altre trasmissioni per cui per me è stato veramente un piacere averla qua è stato veramente un piacere averti e mi hai fatto un regale grandissimo perché adesso te lo confesso uno dei miei più grandi sogni è sempre stato conoscere un atleta olimpico perché io le olimpiadi ce le ho ce le ho nel cuore mi ricordo la fiamma di atlanta 96 io non sono mai stato un fanatico dello sport in tv mi annoia parecchio però le olimpiadi sarà che c'è tutta la parte storica tutto il fascino quelle lì quelle lì ci ho sempre lasciato il cuore e io vi ho sempre visto come dei supereroi perché comunque andate là dopo anni di sacrifici di impegno di fatica vi andate a giocare tutto in una manciata di minuti e secondo me bisogna bisogna avere le palle quadrate per riuscire a fare questa cosa qua e a maggior ragione in sport che purtroppo spesso adesso forse stanno cambiando un po' le cose ma in Italia non vengono molto subvenzionati infatti buona parte di voi se non fosse per le forze armate probabilmente non riuscirebbe a fare quello senza forse noi abbiamo sicuramente esercito carabinieri polizia che ci danno la possibilità di fare professionismo altrimenti in Italia sarebbe impossibile a parte per il calcio forse tennis pochi sport insomma quindi veramente per me siete siete davvero un baluardo di ed è stato molto molto bello averti qua e conoscerti perché insomma credo che i ragazzi che ci stanno seguendo ancora condividano ma è venuto a fare il ritratto di una persona un po' come noi che magari è un braccio alle gambe è un'essere umana guarda sì però non è proprio non è proprio così mi permetto di dire che nell'ambito del karate ho conosciuto parecchie persone sia da insegnanti che da parte di agonisti di livello parecchie persone insomma di alto rango e non è facile trovare una persona così di cuore così disponibile ed è stato davvero un grande piacere averti qua e se ti sei divertita sappi che basta che mi mandi un messaggio io ti porto quando vuoi senza problemi va bene grazie grazie mille scusa ti leggo soltanto gli ultimi saluti Cinzia ti ringrazia grazie anche Daniela ragazzi andatela a seguire sui social lei è un profilo instagram attivissimo non mi ricordo se è Sara Cardin Sara forse il profilo instagram vincenzo bella puntata enorme emozioni immenso piacere una serata straordinaria poter sentire Sara stasera è stato un don enorme prezioso un grandissimo in bocca al lucco per le olimpiadi e per gli allenamenti grazie di cuore una stella spettacolare semplice e genuina boh è dopo questo mamma mia e io direi che adesso ci saranno tutti i commenti quelli negativi no 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 gli vado a tirare le sticchere sulle orecchie no io te lo ho detto quando ci siamo sentiti al telefono io te l'ho detto io li ho educati bene i miei guarda che possiamo parlare di qualunque io li ho educati bene Cobra Kai Karate che è Daniele come mai bisogna essere nelle forze dell'ordine o militare per essere professionista e andare alle olimpiadi grazie no amico mio bisogna esserci perché se no non mangi perché il problema è avere i soldi per poter mangiare e allenarti tutti i giorni con i ritmi a cui si manano loro il problema è proprio questo che non abbiamo il professionismo quindi non percepiamo uno stipendio per allenarci mattina e pomeriggio tutti quanti i giorni quindi se non ci fossero le forze militari che ci danno la possibilità di rappresentare comunque la forza armata e fare le competizioni e portare lustro alla forza armata non avremo questa possibilità perché dovremo comunque avere da vivere e nel momento nel quale lavori vuol dire che non ti puoi più allenare mattina e pomeriggio e sicuramente se non ti alleni tutti i giorni con costanza e diventa anche difficile fare un progetto olimpico non ci sono i sponsor che ci sono in altre discipline in altri sport non girano i soldi che ci sono è le soldi il problema sono sempre le soldi e anche Daniele ti fa i complimenti e ti ferremo tutti per te Sara grazie davvero di cuore io non scherzo se per caso tu hai pensato di passare di qua non ci sono problemi e compreremo i libri speriamo un giorno di incontrarci così magari ci li facciamo anche autografare va benissimo un bocca al lupo immenso anche un in culo alla balena speriamo che non abbia problemi grazie simpaticissimo grazie a tutti quanti veramente carinissimi un mega in bocca al lupo a tutti fate il tifo fate il tifo lo faremo lo faremo anche se mi sa che ci vedremo indifferita perché c'è c'è un bel fuso orario ma non importa non importa noi seguiremo Sara seguiremo il karate alle olimpiadi ragazzi grazie per essere stati con noi alle nove di sera e Sara t'ho fregato alla fine t'ho fatto fare lo stesso humor e ragazzi ci sentiamo noi cos'è oggi è lunedì noi ci sentiamo mercoledì con la con la nostra solita live del mercoledì sera e grazie ancora un bacione Sara è davvero è stato un piacere immenso ciao ragazzi ciao ragazzi buona serata grazie a tutti